Bella raga dal vostro grande capitano Napoli benvenuti in questo nuovo video con sette rubrica settimanale oggi pronostici ventiquattresima giornata di serie a la prima partita che si disputerà e domani alle ore 15 tra lecce e spalle lecce venga la grande impresa che ha vinto allo stadio san paolo per questa partita prevedo lecce spalle uno over alle 18 c'è un interessantissimo bologna genoa per questa partita prevedo bologna genoa x alla sera c'è un bellissimo atalanta roma l'atalanta è qualche a tre punti in più della roma per questa partita prevedo atalanta roma over alla domenica mezzogiorno e mezzo c'è un darby del triveneto tra udinese e verona per questa partita prevedo udinese verona x juventus brescia uno over sampdoria fiorentina 1 sassuolo parma 1 cagliari napoli per questa partita prevedo over lazio inter over partita avrete da difficile pronostico milan torino che si giocherà lunghe di 1 mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale una buona giornata dal vostro grande capitano napoli ciao 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 ciao